I sismologi raccolgono dati e si sta facendo strada una nuova teoria. Ce ne parla Maurizio Menicucci. Davanti alla domanda perché accadono aggrappoli in certi periodi e in certe aree, la sismologia suggerisce prudenza. Sembrano accadere e puntualizza perché il qui e ora di solito non regge all'analisi statistica e dunque si tratta di semplici impressioni. E continua a cercare spiegazioni nell'enorme quantità e varietà locale dei segnali chimici e fisici dell'attività sismica. E l'unica possibilità sostiene e dobbiamo sfruttarla. Lo dice, ma danni coltiva un'altra ipotesi che potrebbe finalmente mettere insieme il puzzle frammentato e spesso incoerente dei dati sui terremoti. Sospetta cioè che la Terra, come tutti i fluidi di cui è in gran parte composta sotto la crosta solida e flatturata, sia soggetta alle stesse forze che astri e pianeti esercitano sugli oceani. In altre parole, lo spostamento delle placche terrestri che genera sismi e vulcani non sarebbe innescato, o non solo, dalle differenze termiche tra interno incandescente e superficie fredda del pianeta, ma dalle forze gravitazionali. Il quadro indiziario sarebbe ormai pesante, tanto che le ultime osservazioni farebbero parlare di pistola fumante. In sintesi, la marea genera nelle masse fluide un movimento verticale come una bolla che si sgonfia e rigonfia e anche se non ce ne accorgiamo, ci porta su e giù di circa 30 cm due volte al giorno. Esiste però anche un movimento orizzontale che genera un'onda in grado di far traslare la crosta terrestre di 15-20 cm sempre due volte al di. Questo effetto sembra collegarsi in modo plausibile sia con le fasi gravitazionali generate dagli allineamenti planetari, sia con la deriva generale dei continenti, sia con i picchi di attività dei sismi, alla fine dei quali le aree colpite quasi sempre si assestano con un rilevante spostamento orizzontale. Dimostrarlo non è semplice, è azzardato dirlo prima di avere prove certe, come dimostra l'ormai lunga e silenziosa incubazione di questi studi. Ma la scienza è la cosa più rivoluzionaria inventata dall'uomo, forse per questo spesso ha paura di contraddirsi, e la conferma che anche la Terra sia lunatica potrebbe essere davvero una rivoluzione, forse imminente nella nostra lunga rincorsa a prevedere i terremoti.